grazie do subito la parola a paolo cacciari che è in collegamento poi non sono un vedo riccardo riccardo prima eccoci ci sei sì grazie roberto per per l'invito sarei veramente felice di essere a sono influenzato e perché avrei incontrato tanti amici e tanti reduci di tante battaglie che da tempo che non vedevo tutti insieme e già questo è un merito di transform quello di essere diciamo una sede dove ancora ci si parla noi soffriamo credo tutti noi appunto siamo tutti dentro le nostre c'era un sociologo che parlava di imbozzolamento della società siamo tutti dentro nei nostri bozzoli no più o meno più o meno che ci danno più o meno soddisfazioni perché facciamo tante cose nel sociale e così via e però siamo appunto siamo limitati nelle nostre cose già questa è una roberto forse mi avete invitato anche per dare diciamo io sono da molto mai impegnato più sul fronte siamo sul versante sul bozzolo della dell'ecologia e quindi è importante anche questi questi incontri per anche solo per confrontare registrare le agende quindi io voglio solamente dire che il 18 aprile ci sarà di nuovo uno sciopero sul uno sciopero sul clima che quest'anno poi sarà vedrà delle 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 connessioni importantissime con il movimento con il movimento dei lavoratori ci sono alcune esperienze da la cività vecchia la gkn che stanno dicendo come le cose possono possono intrecciarsi gli obiettivi possono intrecciarsi non è vero che la battaglia per la difesa e la conservazione dell'ecosistema della biosfera debba necessariamente essere in contrasto con i posti di lavoro l'occupazione e diciamo così in genere l'economia ma io non vorrei parlarvi di questo perché altrimenti sento che pensiamo ad una unificazione delle sinistre per giusti giusta posizione per sommatoria e le cose non funzionano così no le cose non funzionano così roberto finelli e parlava delle età che siamo nell'età delle catastrofi e e quindi appunto la crisi è una crisi sistemica è una crisi non solo sociale economica e così via non solo ecologica io direi che siamo per usare una vecchia definizione di ernesto de martino siamo in una catastrofe culturale siamo in una catastrofe culturale io non so se se questo derivi dalla crisi del capitalismo anche perché vorrei capirne di più dovremmo fare appunto delle delle sezioni più tematiche degli approfondimenti magari con delle analisi con delle ricerche degli studi perché a me pare che il capitalismo vive delle crisi si arricchisce con le crisi i livelli di profittabilità delle multinazionali in questo momento sono ai massimi storici quindi perché che dove diavolo è la crisi del capitalismo la crisi del capitalismo è la crisi nostra e il capitalismo si arricchisce nella misura in cui riesce a impadronirsi del del sottomettere e depredare la natura e sfruttare e sfruttare i lavoratori sfruttare il lavoro e siamo in un periodo di neocolonizzazione la neocolonizzazione oggi è quella del del carbonio è quella delle delle degli degli scambi di quote di autorizzazioni e alla all'inquinamento sono queste cose qui sono la messa a in valore della natura la messa in valore delle di quella che appunto chiamano con questo tremenda tremenda neologismo capitale naturale non c'è capitale umano che è appunto l'umanità da sfruttare capitale naturale che sono le risorse economiche da mettere nel circuito della nel circuito della valorizzazione del capitale della produzione dell'acqua quindi tutto si integra ma punto su cui io vorrei chiamare l'attenzione le vostre che non sono tanto dice siamo in gabbia e non mi pare cioè il punto è che quando quando dico di catastrofe culturale che viene prima della catastrofe ecologica prima della catastrofe economica prima di tutto è che hanno consenso su questa questione qui la pulsione di morte la pulsione di morte sempre per usare roberto finelli è il brodo di cultura delle destre il brodo di cultura delle destre che che porta appunto a dei disturbi paranoidi della personalità l'accidia l'anaffettività la malevolenza tutti questi sentimenti che stanno conquistando anche i giovani appunto che sono la base della 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 violenza diffusa che c'è nella nostra nella nostra società a questi dobbiamo rispondere a questi dobbiamo rispondere la politica deve rispondere e come risponde la politica su queste cose qui semplicemente con ragionamento con la logica con la geopolitica con con queste cose qui non credo dobbiamo dobbiamo rispondere a questi a questi sentimenti a queste pulsioni di morte a questa macchina di morte che è il capitalismo il capitalismo è una macchina di morte non solo perché uccide la natura perché sfrutta le cose ma una macchina di morte perché uccide i sentimenti uccide e uccide il bisogno l'amore innato che viene gli esseri umani e c'è un piano un piano deliberato per per annullare l'empatia prima ancora che una dissoluzione dei rapporti economici umani c'è una c'è una dissoluzione dei rapporti sentimentali tra le persone tra le persone e allora come si risponde a questa questione della guerra che siamo appunto giustamente veniva ricordato dalle nore alle altre siamo gli esempi storici più vicini sono quelli dei 14 insomma siamo lì siamo in una situazione di preguerra siamo in una situazione di preparazione ci stanno preparando alla guerra ci stanno preparando alla guerra con anche proprio psicologicamente allora dobbiamo rispondere a questa altezza non con 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 insomma abbiamo capito con 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 la politica con con queste cose qui e allora dobbiamo andare ai fondamenti della 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 politica dobbiamo rifondare un pensiero dobbiamo rifondare un pensiero della sinistra dell'ecologista del femminista un pensiero io non so come dire ecosocialista esplicitamente ecosocialista femminista anticoloniale diceva adesso eh maurizio internazionalista ehm dobbiamo rifondare rifondare questo allora quando come possiamo fermare ehm fermare queste pulsioni di morte che la società sta 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 creando no la guerra certamente no la guerra ma qual è l'alternativa qual qual è la qual è l'alternativa l'alternativa al no alla guerra è la non violenza è questo è creare una società che non è l'antimilitarismo è l'antiautoritarismo è il è la lotta agli armamenti è questa è questa cosa qui è questa cosa qui ma ci rendiamo con la cosa più pazza che mi pare di capire su cui potremmo anche parlare agli operai della no alla guerra quando ci dicono il 2% delle spese militari è la scala mobile della morte ci rendiamo conto è la scala hanno messo hanno tolto la scala mobile allora chiediamo una scala mobile anche per la sanità no diciamo benissimo volete il 2% delle armi e noi vogliamo il 3% 4% della della sanità il 6% per la pubblica istruzione e così via affrontiamo questa questione vedrete che avremo il consenso di quelle masse di quelle di quelle masse ma se non attacchiamo la spesa militare non in termini estrati ma in termini concreti in termini concreti per esempio anche da un punto di vista interno insomma al al ai lavoratori ecco dobbiamo quindi riprendere una politica che abbia un orientamento etico e finché la sinistra non avrà un orientamento etico e cioè un orientamento universalista da questo punto di vista non solo della distribuzione equa del reddito del o del o di questa cosa o di questa cosa qui ma di giustizia universale di queste questioni qui e di 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 non violenza di costruzione di una società che non sia basata sulla competizione e sul 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 sull'appropriazione privata eccetera eccetera ma che abbia questa e questa dimensione noi non riusciremo a parlare ai giovani non riusciremo a parlare alle donne non riusciremo a parlare a quel 50 per cento non ne ho sentito parlare che non va più a votare perché questa sistema democratico diciamo a cui noi partecipiamo diciamo nella misura in cui partecipiamo a questa pseudo democrazia che è quella che c'è noi ne diventiamo complici ne diventiamo complici se non se non la denunciamo per essere appunto ormai una una parvenza una parvenza quella che appunto vota i crediti di guerra il voto i crediti di guerra come noi abbiamo fatto come la sinistra anche la sinistra radicale ha fatto in un passato non troppo non troppo lontano e su cui ancora non mi pare ci siano state ci siano stati ripensamenti grazie grazie